A loro stavano i suoi compagni di Pasquale tengo un problema perché scuole a parlare con me ma che problema te? Pasquale però ti dico non ti dirà nessuno non ti preoccupare parlo con me ma che problema te? Pasquale sai che problema te? a me non sai di più ma che stai? sai che fa? ti manda 6 panna e chi lo sai? io non sto a bello questo panna Pasquale manda una panetta di buongiorno mi ha dato 5-6 kg di panna mi ha dato 5-6 kg di panna aspettate la città d'agosto a me ne riesci 1 kg ci vuoi fare che te facciamo giusto 10 kg ma sapete quello che fa? ma che sto a fanzare? mi ha dato proprio 15 kg ma tu ti stupò a chi ti fa tutto? mamma mia no 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 FUGGIE!